pubblico ovidio nasone ovidio 20 avanti cristo non si conosce la data del trapasso poeta romano tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca in metamorfosi dice dette il creatore delle cose all'uomo sublime il volto e gli impose di contemplare il cielo e di innalzare lo sguardo diritto alle stelle perché commento perché l'uomo cresce solo contemplando il proprio intimo che è il figlio del cielo e delle stelle grazie